Poggi di Giotto, ok, è Dome Slayer, è il Dome Slayer Nota, a causa dell'epidemia di Covid-19, le dati di dolce e altre informazioni comunicate in questo video potrebbero subire delle modifiche Ok Iniziano con Smash? Iniziano con Smash Che ne sai se è Smash? No, aspetta, no, è Xenoblade Xenoblade Oh no, non mi dire che è Rax, non mi dire che è Rax Ti prego fa che sia un sequel No, ok, mi sa che solamente Xenoblade è basta Ma non manco lo stile di Smash, quindi Però non dire niente No, sarà un DLC di Xenoblade Ti prego fa che sia così Si stanno prendendo troppo tempo E poi solitamente i trader di Smash stanno cominciando sempre in quel modo con la croce, quindi non è Smash Sì, appunto E poi perché, cioè Allora, perché avevano dato il costume di Rex proprio perché non... Non potevano metterlo Esatto Esatto Perché avevano già organizzato la lista personaggi da mettere, quindi... Cioè, allora, questo non esclude che possano mettere Pyra Però, che hanno detto adesso che è sparita Sì, ma... Dimmi Ok, è su Smash Oddio Oh, madonna Dai Oh, mio Dio Dai, ma sono due personaggi di Smash Nintendo adesso, dai In un singolo Fighter Pass Cioè... Cioè, io sono Orny, quindi va bene, però dai Cioè, allora, ok, è figa Ok Però... Cioè... Avrei preferito qualcun altro, onestamente Cioè, sono due personaggi di Smash Nintendo In un singolo Fighter Pass L'animazione... Però più o meno è figa Vai, muori Muori Oh, no Oddio Poi re e Mitra sono, allora Sono entrambi Puoi cambiare forma Oddio No Questo è figo No Zelda chic di Brawl, no Ok, questo è figo Ok, allora Ok, sì Ok, già l'apprezzo un po' di più, comunque Di sicuro l'apprezzo più di Min Min Non ho assolutamente idea di che state parlando E che roba sia questa Ma sì Eh, Alessio Non sai cosa è questa Ti sei perso Non sai cosa Non sai cosa sono i videogiochi Ok, sì È letteralmente Zelda chic Allenatore di Pokémon Allenatore di Pokémon Zelda chic di Smash Smash Brawl Oh no Lo stage un personaggio giocabile Ti immagini alla fine Fanno un altro annuncio di Smash Su Cross Su Cross Ok, Smash finale Eccolo Rex è nel gioco No, ma La forma cambia figo Uh, ok Ok, allora Non è emozionante come personaggio Ma come meccanica è fighissimo Oddio Rework di Shulk Rework di Shulk No, niente Che rework di Shulk Va benissimo Già Shulk Adesso ho dato un'occhiata a questo Quando dicono così Fanno sentire Fanno vedere qualcosa di figo Mario Golf Mario Golf Finalmente Finalmente Il gioco sport di Mario Si vede che Mario Tennis Porco Dio Si vede che hanno trovato un vaccino Nel mondo di Mario Finalmente Porco Dio Bello Capisci di essere un Un cazzo di Wii Player Quando ti esci Ti per Mario Golf Ma non è Mario Striker Oddio aspetta E se non c'è solo Mario Striker Però sembra Cioè io lo vorrei Non ci giocherei mai Però lo voglio Perché È un gioco di Mario Sport Da Switch Ok E poi Usare motion control Cazzo L'epoca della Wii Siamo tornati all'era Della Wii ragazzi Allora si è da comprare Gala sai cosa sai Oddio Oddio Lui ci ghiaccio Oddio Oddio ma che cazzo è Dove è? È sempre il vostro turno Giocare online sembra divertente Giocare online sembra divertente Come sarà l'online 2 fps al secondo Però hanno le mosse speciali E questo Si Tan 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 I mi I mi I mi Ci siamo eccitati per i mi Perché Nintendo si è dimenticata di avere Di avere i diritti sui mie Ok questo allora è un gioco da comprare Se puoi avere i miei Mi ricorda un sacco Mario Tennis Cioè anzi no Mario Golf 3DS Questo è in senso positivo 25 giugno No fatelo uscire ora Però i preordini Dopo il termine di questa presentazione Figo L'ultimo capitolo della serie Mario Golf Immaginiamo tipo annunciano un altro gioco di Mario Sport Mario Stryker Cazzo Lì si sborra pesante bro Posso Fare il Il trattatore di pubblicità Quando e come volete Quindi C'è Ga Ci credi che Lo stesso Ci credi che io sto parlando E mi sono letteralmente Fermato Appena ho visto mitopia Stanno iniziando a dare più importanza ai miei finalmente Cazzo si sono ricordati di avere i miei Oddio Che paura Oddio le capigliature Oh mio dio Sono più miei Questi sono Oh mio dio Quello è Chongkyu Quello è Chongkyu Vinci il giorno dopo Fate Shadow Legends Si sono ricordati di avere dei miei Si sono ricordati di avere i lavatori Oddio si Oddio ma hanno aggiunto anche nuove cose Oh no puoi scoparti un cavallo Puoi scoparti un cavallo Ti prego dimmi che ci sono tant'animale Puoi scoparti un cavallo bro Non hai bisogno di Ok no ci hanno messo due minuti Un altro paio di titoli Un paio Sono due Ci sono due titoli Due The Legend of Zelda e Pokémon Sicuro Si si Zelda col cazzo Che ti avevo detto Stavo scherzando Oh mio dio Io sono sicuro che vedendomi Vedendo finalmente vorrei avere qualche notizia Oh no Oh no E mo dirà no col cazzo Fottetevi Mi dispiace deludervi Ecco esatto Fin grado di mostruvi qualche novità Nel corso dell'anno Ho visto Allora Credo faranno vedere Già qualcosa Però adesso faranno vedere un trader Suppongo Nel frattempo però Un nuovo gioco di The Legend of Zelda Vediamo Oh ok Qualcosa per l'anniversario Skyward Sword Skyward Sword Skyward Sword Cazzo si Ma l'hanno preso direttamente dalla Wii Ci saranno secondo te i motion control Allora posso esserti sincero Ti faccio un piccolo predict Adesso faranno vedere anche Twilight Princess e Wind Waker Sarà una collection di tre giochi come quella di Mario Oh yes Per questo la grafica non è migliorata Guarda lo spero E vedete che ha uno stile artistico Perché un pochino renderla più HD potente Skyward Sword HD Ok 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 non mostrano nient'altro Fine E' soltanto in HD Punto Che in HD però Le texture le vedo molto Oddio ti prego dimmi che hanno fatto lo stesso con i Joy-Con Ti prego dimmi che si può giocare con i Joy-Con Non siano più intuitivi Oh si Abbiamo ricreato lo schema di comandi per la spada e lo scudo Oh si E sfruttano i Joy-Con Quindi Puoi comandare anche lo scudo allora Cioè praticamente tu ti metti nella posa di Link E usi lo scudo e spada Bellissimo Vedere cose che mi ricordano vagamente da Wii Sono contento Oddio L'arco Finalmente hanno dovuto fare un po' i In più Per Per quelli che non amano i motion control Hanno reso i comandi Con solo pulsanti Eh si ti immagini giocando sulla Switch Lite Sarebbe impossibile giocarlo Oddio che belli Ma sono bellissimi Ma sono bellissimi quei Joy-Con Ma li voglio Spera che non ti si rompano Ma io li voglio quei Joy-Con Quindi basta solo questo 16 luglio That's it no smash That's it no smash Nel senso solo questo mi aspettavo Come il trattamento di Mario Però vabbè ators A Ma Molti di vero sapranno già Una di Legends of the Wild Ericina de per console Una di Legends of the Wild Una di Legends of the Wild Sì Di long bro La perreuna Un'altra è una nerasica I Forse Spera che Questo vi fa Intravedere Con tue funzioni innovazioni che sarebbe stato adottato di quella generale da The Wild Sì, in effetti la stamina per accogliere roba climbing, gliding oggetto infame di Smash Sì, è uno di quei giochi Nintendo dovevi giocare dovresti provare a recuperarti tanto su Dalsish sono iniziando ad uscire un sacco di giochi vecchi pure, quindi Ok manca l'ultima bomba prima di chiudere Ok, eccolo Smash? Ti prego dimmi che Smash No, è Bayonet 3, guarda Non è Bayonet 3 È Smash Non è, non è Smash Splatoon! Splatoon! Splatoon 3! È un DLC o Splatoon 3? Splatoon 3 Ti prego dimmi che Splatoon 3 Splatoon 3 Splatoon 3, bro Oh mio Dio Finalmente No ragazzi, è Splatoon 3 io mi metto ad urlare Con l'arco! È una balestra, tipo Il petto Oddio, puoi avere l'amichetto pure Ok bro, è Splatoon 3 È Splatoon 3 Ti prego dimmi che Splatoon 3 Ti prego dimmi che non è Splatoon 3 No, no, aspetta No, aspetta, bro Non è Splatoon 3 È Splatoon Breath of the Wild Ti giuro, guarda! Sì, lo so È tutto desolato È strano Sono confuso Adesso lo voglio vedere Voglio... Vorrei che non fosse un DLC però Perché se è un DLC è... Spero che è un DLC perché... Sennò vado a vendere Splatoon 2 Io vorrei che fosse Splatoon 3 perché vorrei vedere tutte le nuove idee che possono mettere Che renderanno il gioco più divertente Soprattutto per il multiplayer Io spero... Non farebbero mai normalmente Nintendo Vediamo Appare il titolo Ti prego dimmi che Splatoon 3 Ti prego dimmi che Splatoon 3 Ok, è arrivato in città E' Splatoon 3 Oh mio Dio Oddio Oh mio Dio Oh mio Dio Ma è gigantesca sta città Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Splatoon 3 Non me l'aspetta Non me l'aspettavo Ti prego dimmi che play Oh mio Dio Si gameplay Ma è tutto in aria Oddio ma ti puoi lanciare dove vuoi Che figo Tra l'altro senti il remix Sì Sì Sembra un remix di Doom Però voglio vedere le cose nuove Perché il Splatoon 2 mi ha stupito Quando andrò iniziato tutte le robe nuove Ok, lancerà Così 2022 ok Ok Buona prossima Oh Dio Splatoon 3 Non me lo sarei mai aspettato